Questa ragazza si è presentata in una palestra senza indossare nessun tipo di pantaloni per fare un video Ma è finita piuttosto male sia di persona con le reazioni molto negative della gente che si stava allenando Ma anche online quando ha poi pubblicato il video provando a fare la vittima per quello che le è successo In questo video andremo a capire tutta la storia che è davvero assurda in quello che tra l'altro è ufficialmente il primo video del 2024 E questo significa che tutti quelli che stanno guardando questo video senza essere iscritti e senza aver messo like avranno un 2024 sfortunatissimo Anche io mi metterò mi piace da solo perché non voglio rischiare Il 2023 si è concluso in modo abbastanza particolare con tutti gli insulti dei bot Ormai penso che sia un po' da tradizione, penso si possa dire perché anche il 2022 si era concluso a sorpresa con tutte le cose successe tra Greta Thunberg e Andrew Tate A questo punto aspetto solamente il colpo di scena che ci sarà negli ultimi giorni del 2024 Ma tornando all'argomento di oggi è importante come prima cosa ancora prima di vedere il video che è diventato virale in cui va senza pantaloni in palestra Inquadrare il soggetto e capire come mai ha avuto la brillante idea di adentare in palestra senza pantaloni Che penso siamo tutti d'accordo che non sia una cosa del tutto normale da fare Bene direi di cominciare capendo chi è lei che fondamentalmente si può riassumere Dicendo che è una di quelle ragazze che non ha nessun tipo di talento e quindi si apre un OnlyFans Ma lei ricordatevi che non è come tutte le altre Infatti oltre a deludere suo padre come professione si diverte anche a creare altri tipi di contenuti E questo lo fa su due piattaforme in particolare La prima è TikTok dove pubblica dei video di altissima qualità devo ammettere Quando vedo questi video palesemente finti su TikTok mi chiedo ogni volta e soprattutto spero Che almeno questi TikToker paghino un po' la gente per recitare nel loro video Perché altrimenti farlo solo per la gloria mi sembra imbarazzante Almeno a questo secondo video la reazione delle sue comparse mi è sembrata più naturale Forse erano reali Ci sono anche altri video in cui hai l'abitudine di togliersi i vestiti in pubblico Qui era in un'aula universitaria per esempio Posso soltanto immaginare il cringe una volta finito il balletto E se ne è dovuta andare in completo silenzio mentre tutti la guardavano Inutile dire che questi sono contenuti che sarebbero da promozione per il suo OnlyFans Cosa che non è nemmeno una novità e ci sono tante ragazze che fanno contenuti come i suoi Ma come vi ho detto lei non è come tutte le altre Lei è davvero pronta a tutto per diventare virale Sia andare in paletta senza vestiti come vedremo tra un attimo Ma anche per un altro motivo Infatti lei fa anche delle dirette su Kik che è una piattaforma concorrente a Twitch E appena cercato il suo nome per capire chi era Mi sono trovato davanti questo fantastico articolo in cui ci viene detto che Streamer viene fermata dalla polizia dopo aver fatto un prank sul rapire i bambini La categoria di prank continua a regalarci gioie immense Lei in pratica è una streamer Irl Una di quelle che si riprende in diretta mentre va in giro per strada e parla con le persone E ha avuto l'idea fantastica di fare un prank Cioè prendere un furgone bianco Scriverci sopra caramelle gratis E andare in giro Per riprendere ovviamente la solita frase che si dice ai bambini Di non accettare caramelle da sconosciuti perché ti vogliono rapire La si vede anche andare direttamente ad alcuni bambini Per chiedergli se vogliono delle caramelle per poi dirgli di seguirla verso il suo furgone Poi ovviamente non è che li rapiva per davvero Gli dava le caramelle e basta Quello che succede nella live però dato che lei sta facendo tutto in diretta E che a un certo punto viene fermata e poi arrestata con tanto di foto segnaletica Che lei pubblicherà poi giorni dopo sui social E' stata davvero arrestata per una diretta Incredibile A parte che non sarebbe nemmeno la prima perché per quanto gli americani copino Donna Lee è stato il primo e rimane il capo di Twitch mondiale Ma la realtà è che era tutto finto Era tutto organizzato per cercare di diventare virale E ci è riuscita almeno in parte Quindi ora penso che abbiamo un identikit abbastanza completo di questa influencer Una pronta a tutto per andare virale Anche fingere un arresto in diretta Dunque direi che adesso è il momento di vedere la sua trovata più riuscita per la viralità Cioè andare in palestra senza indossare pantaloni Queste sono le immagini di quello che è successo Tra un po' vedremo le reazioni delle persone che sono state molto negative Ma so cosa state pensando Che lei in realtà sta indossando dei pantaloni Ma in realtà no Quelli non sono dei pantaloni ma ha pitturato le sue gambe Come se fossero dei jeans Non indossa niente Ha solamente coperto le parti intime con un costume Quindi non è contenuti P18 Ma lei ha tutti gli effetti senza pantaloni Anche se non è del tutto nuda in quelle zone La parte peggiore del video sono quei tipi che erano con lei E che provano a dare ragioni cercando poi di causare una reazione ancora più negativa nell'altro ragazzo Incitandolo ad andare ancora più vicino Naturalmente questo video è diventato virale Perché tutti si chiedono per quale motivo questa ha deciso di andare vestita in quel modo O non vestita in quel modo E forse non era la reazione che voleva lei Perché poco dopo ha scritto questo In osservo il gestione sportivo per l'allenamento è un costume Perché tutti si comportano come se fossi nuda La quantità di donne che indossano pantaloni molto aderenti Questo non è niente di male Ora io non penso che sia davvero necessario spiegare come mai presentarsi in una palestra senza pantaloni Non è normale A parte per motivi igienici E perché è contro il regolamento È ovvio che non ti presenti in quel modo per allenarti seriamente È ovvio che non si trova lì perché vuole migliorarsi come tutti gli altri Si sta filmando ed è vestita in quel modo Perché sa che non è normale E voleva creare un qualche tipo di contrasto con le persone lì E questo lo sa anche lei Infatti è ovvio che il suo scopo fin dall'inizio Era solamente quello di ottenere una reazione del personale Che infatti ha avuto E poi pubblicarlo online cercando di fare la vittima Sempre sperando di diventare ancora più virale E fare qualche abbonamento in più al suo sito Ha scritto poi un altro post in cui dice Quindi quando le persone indossano questi outfit È tutto per la body positive Ma quando ne indosso di più è un problema La palestra mi ha fatto entrare Mi ha fatto filmare Altrimenti mi avrebbero cacciato A parte che da come è finito il video Mi sembra evidente che la gente lì dentro Aveva dei problemi con lei Ma a parte queste sono argomentazioni così stupide Che a questo punto mi sembra palese che stia trollando Nessuno può davvero essere così poco intelligente Da non capire che l'outfit che indossi ad una gara di bodybuilding Non è lo stesso che puoi indossare in una palestra normale Mentre ti alleni Twitter poi è anche abbastanza divertente Perché ti mette delle note della community In cui correggono i post In questo caso dice L'uomo nel video difende le regole generali della palestra Secondo la quale dovresti indossare Abiti adatti all'esercizio Indossare abiti inadeguati O non indossarli affatto È considerato irrispettoso verso gli altri Ed è anche un rischio igienico Sì che poi tra l'altro Io non so quali fossero le sue intenzioni Ma immagino solamente andare lì Dare fastidio E farsi cacciare Ma se davvero avesse cominciato ad allenarsi Immaginate tutto lo schifo Che avrebbe lasciato sulle panche Sugli attrezzi con il sudore Mista quella pittura blu Immaginate essere quelli che poi Devono usare la panca subito dopo di lei E non è stata criticata solamente di persona Ma anche nei commenti Infatti quelli con più like sono per esempio Se è vero la voglia in galera Quel ragazzo ragiona al 100% Ti ha criticato per i tuoi comportamenti degenerati E hai fatto la vittima Non esistono pantaloni dipinti Stavi andando in giro in mutande Se un uomo facesse la stessa cosa Avrebbe arrestato Beh calcolando che esiste addirittura il trend Delle ragazze che accusano ragazzi Per averle guardate per qualche secondo in palestra Non immagino cosa succederebbe Se un ragazzo si presentasse in mutande Con i pantaloni disegnati Davvero pensavo che l'avremmo dato ragione In realtà non penso Penso che l'abbia postato perfettamente cosciente Di essere nel torto Ed è questo che l'ha fatta diventare virale Influencer così Un po' come anche quello che andava in Giappone A soltare le persone E poi è stato arrestato Su una delle categorie peggiori di persone su internet Realisticamente parlando Nessuno di loro è davvero così stupido Da pensare che quello che fanno sia normale Lo fanno perché vogliono le reazioni delle persone Sapendo che li renderà virali Quel video ora ha decine di milioni di views Quel ragazzo con cui ha discusso Decisamente non gli ha fatto piacere Essere visto da così tante persone E soprattutto non ci sta guadagnando nulla Né di soldi né di visibilità D'altro canto lei ha avuto quello che voleva E in più ci sta pure guadagnando Da quelle views E anche molto probabilmente In conclusione Non penso che serva aggiungere altro Su questa storia Aspetto di sapere Come sempre la vostra opinione nei commenti Vi ringrazio come sempre Tutti gli abbonati al canale Per il supporto E noi direi che ci becchiamo Alla prossima Alla prossima Alla prossima